Valerie Doer, Get Closer, 8 e 12 minuti, questo era il Crystal History di oggi, lunedì 9 settembre, lunedì della ripartenza, siamo pronti a ripartire e qui di fianco a me c'è il nostro feticcio della ripartenza, tutte le prime puntate e le ultime puntate c'è lui, Lorenzo Masieri, buongiorno. Buongiorno a tutti, se mi si chiama rispondo, bello, che è la mentela che fanno su di me, che quando mi chiamano non rispondo mai al telefono, comunque immagino che dopo un'ora con Filippo Poletti tu mi abbia chiamato per fare un focus sulle piccole e medie imprese italiane, sulle politiche di… Per niente no, mi chiederai dove sono andato in vacanza, però l'ho chiesto a Capoletti dove sono andato in vacanza, lui è stato a Zanzibar, tu dove sei stato? No, hai fatto un giro itinerante in tenda, Costa Brava e Costa Azzurra, con la pandina. Ti sei dato allo zingaraggio? Quello sempre, è stato molto divertente, molto bello, ricordo mai lontano e niente. Vabbè, però è andata, ma sicuramente avrai seguito le vicissitudini che sono avvenute nella nostra città questa estate? No, scherzo, scherzo, come ho detto l'ultima volta che ci siamo visti a luglio, fine giugno, 28 giugno era. Fine giugno, purtroppo nell'ultimo periodo sto seguendo sempre di meno, però con tristezza. Ah, cioè ti manca. Cioè vorrei, esatto, vorrei ma non posto. No, poi qualcosa succede, sono stato più attratto come sempre dalle questioni nazionali. Ah, e quali sono quelle che ti hanno più preso il cuore? Vabbè, in questi giorni, in questi giorni, secondo te scusa. Ma bene, raccontacela bene, la questione Boccia e San Giuliano. La questione Beauty. Beh, San Giuliano, bravo, pensa, cantavano in Negra Amaro, poi è diventato ministro. Questa immagino che si è preparata tipo tre giorni fa. No, giuro, è venuta in mente adesso. Vabbè, facciamo così, sai che il post, no? Fai lo spiegone, no? Sì. Ok, facci lo spieghino della questione San Giuliano Boccia. Cosa è successo? Ma l'abbiamo sentita in tutte le salse. La volevo sentire dalla tua viva voce. A me sai cosa incuriosisce? Più di quello che è successo, che vabbè, sappiamo, risappiamo. Quello che succederà, perché secondo me è destinata, sono stati due settimane fisse in cui abbiamo parlato di ciò. Sì. Secondo me in un attimo svanisce tra quattro... Cosa sta succedendo? No, andiamo avanti, andiamo avanti. Ci si guarda intorno. Guarda con le luci. C'è una luce da sistemare per qua. Una luce da sistemare, perfetto. Ma lo sapevamo anche settimana scorsa, che sono passato, sapevamo che c'era una luce da sistemare. Mi ha sistemata male. Vabbè, fatto sta che io penso che tra cinque giorni non se ne parlerà più, finirà tutto in cavalleria e via. Non lo so. Dici così, passa così veloce. Ma passa tutto. Ma quella è la domanda che mi sono fatto io però. La vicenda Gian Bruno. Abbiamo parlato della vicenda Gian Bruno. Una settimana. E poi è finita dopo. Basta, poi è finita dopo. Dopo il posto. Mi chiedo appunto, nell'era post-bunga-bunga, com'è possibile che avvengano ancora cose del genere? Tanto che, come sai sicuramente, come tutti sapete, la Pascale, ex storica di Berlusconi, ha messo una sua foto. Oppure? No, ha messo una foto di Berlusconi. In foto di Berlusconi, pensieroso, guarda verso il basso. Adesso non ricordo se era una foto di Berlusconi vero o di Tony Servillo che loro fa Berlusconi. No, ma di Berlusconi verissimo. Con scritto dilettanti. Dilettanti. Incredibile. Però è tutto bellissimo. Però è sempre tutto bellissimo. Sì, quanto ti piacerebbe essere lì a sentire in prima queste notizie, questi avvenimenti. Sì, ma sai che quel post lì genererà un sacco di… Vabbè, ma fa niente. Tanto fra un mese cosa succederà un'altra roba. Un'altra roba. Che la fantasia non riesce neanche più ormai a immaginare. Cosa potrebbe succedere d'altro? Cioè, non… Eh, cosa succederà? Boh, non lo so. Ma perché chi mai si sarebbe aspettato che un ministro… Eh, infatti. Però vabbè, ragazzi… E quindi, queste sono così vecchie come il mondo, tanto che ci sono scritte anche tanti libri o anche delle canzoni tipo Mualolità, ad esempio. E Alizé con Mualolità. Tu sei la Mualolità, Lorenzo. Non sei la Mualolità. Non ambisco a tanto. Ah, vabbè. C'era un posto vuoto. C'era un posto vuoto. Se volevi, potevi occuparlo così. Comunque, Lorenzo Basieri qui con noi nella prima puntata della stagione di Good Morning Milano. 8 e 20 minuti. 331-7853-555. Grazie a tutti per il WhatsApp che ci state inviando. E grazie di farci compagnia, come sempre, tutte le mattine. È il 9 settembre. 9 settembre. Seduto in quel caffè, io non pensavo a te. No, era il 29. Mancano ancora 20 giorni. Ma tranquilli che se il 29 cade tra lunedì e venerdì, non ho idea che il giorno sia, sicuramente la mettiamo. E verrò qua per cantare. A proposito, segnati già. Ci rivediamo il 29 giugno. 29 giugno. Ok, ci rivediamo lì, va bene. Se sono ancora in questa dimensione. Anche perché non è detto che tornando a casa... Chiudano il programma prima. No, posso tornare a casa sane e salvo. E non possa finire magari allagato da qualche parte. Perché hai visto che disastri Milano... Sì, però posso dire che fino a che ora ha piovuto stanotte. Eh no, stamattina pioveva. Qua ho costruito lo studio. Stamattina alle 6 pioveva. Mi sono svegliato alle 7.10. Ok. 7.10. Già non pioveva, però ho detto mamma mia, chissà cosa c'è in giro. Invece posso dire che anzi ho fatto un viaggio con... Sai che io ti racconto sempre dei viaggi sulla circonvallazione, eccetera, eccetera. Ma c'era un arcobaleno, ragazzi. Arcobaleno in circonvalla. Arcobaleno in circonvalla che potrebbe essere tranquillamente la prossima canzone di... Vasco. No, di Vasco no. Di chi io facciamo? Di Tananai. Ma sì, sì, di uno degli artisti milanesi. Di Baustel. No, è troppo pragmatico. Ah sì. È troppo concreto per i Baustel. Lunga vita e Baustel. Grande. Viva Baustel. Insomma, hai visto che Ponte Lambro, ieri sono esplosi tutti i tombini, protezione civile. Ah, mi sono descritto, ve lo dite questa cosa, a un servizio pazzesco, bellissimo della protezione civile, che tu scrivi l'indirizzo di casa tua, tra per esempio puoi mettere fino a 5 di indirizzi. Quindi io ho millantato di abitare in via Feltre e in via Le Marche. Perché così ho zona Seveso e Lambro sott'occhio. Ma ho messo anche via Novara qua, quindi ci siamo. E se c'è un'allerta, ti chiamano e c'è il disco che ti dà l'allerta. Quindi ieri mi ha chiamato a un certo punto, due volte, la protezione civile. Allerta meteo per il Seveso. In questo istante il Seveso ha superato il limite di guardia. Sala operativa, la chiami a 02-58-85. Molto comodo. Ci si iscrive tramite, cercate su Google Produzione Civile Milano Allerta, tipo una cosa del genere, e trovate un form da compilare, vi arriva una telefonata. Vi arriva una telefonata, non arriva il messaggio. Insomma, se non rispondi in quell'istante non so cosa succede, nel senso ti perdi l'allarme. Credo arrivi anche la mail, però non ho guardato perché non guardo le mail. Però è interessante, è comodo, devo dire. Sì, assolutamente, assolutamente. O è ovvio, se io non mettevo Feltre o quelle altre vie, non sapevo niente e vivo tranquillo qua, dalla zona ovest di Via Novara. Ci scrivono istruzioni poco chiare, ho appena comprato una casa in via Feltra. No, quello era immobiliare.it, avete sbagliato il sito, non è quello. Ma anche sul comune di Milano, anche sul sito del comune lo trovate. Poi c'è un form da compilare, poi vi arriva una telefonata per fare il check del numero, e io l'ho fatto tipo alle due di notte, una cosa del genere. Chissà se funziona, però è un disco, quindi funzionava. Ha detto, la protezione civile ha pensato, questo è un pazzo. Ma va, la gente fa queste cose di notte, scusa. Certo. Non sa cosa fare. Che è che non si trova se si trova alla protezione civile alle due di notte e scrivesse il newsletter? Stavo preparando la nuova stagione di Good Morning Milano, che sai che puoi seguire anche su goodmorning.milano.it? È certo, è certo. Sapete che tutti gli spezzoni potreste ritrovarli? Potrete. Potrete? Tutti gli spezzoni? Sì. Tutti? Tutta la trasmissione spezzettata? Sì. Va bene, sulla pagina Instagram di Good Morning Milano. Ah no, quelle non tutti. Ah, infatti, per quello ha detto Proterese, perché non tutti. Gali con Paprika qui su Cristal Radio, Good Morning Milano, sempre con Lorenzo Masieri per ripartire, per ricominciare dopo un'estate senza di voi. Mi siete mancati tantissimo. Speriamo di farvi cosa gradita nel svegliarvi in queste mattine. Poco fa abbiamo sentito Lucio Battisti, oggi ricorre il giorno della scomparsa di Lucio Battisti che ci lasciava nel 1998, ma è passato veramente una vita. In realtà poi, lo dico sempre, in realtà ci aveva lasciato tanti anni prima. Lui aveva smesso praticamente a metà degli anni Ottanta, premissimi anni Ottanta, di fare qualsiasi vita pubblica, sia di pubblicare, niente, ma si era ritirato. Chissà, non si è mai capito bene perché, non si è mai capito per come. Forse è una grande delusione della figlia, del suo sodalizio con Mogol, non lo so. Però ogni cosa è buona. Io quando ti sei andato non è che l'ho smesso di fare, cioè, nel senso, ero più libero. Non è che ti hanno detto era meglio prima, perché sai che con la questione di Battisti c'è sempre quelli pro-Mogol, contro-Mogol. Dopo Mogol è musicalmente e sperimentalmente parlando qualcosa di patente. Sesco è bellissimo, però il primo Mogol è poesia pura. Cioè, il primo Mogol, il durante Mogol. Eh, ma questa è una roba che divide, è sentita, è divisiva. Questa è una di quelle cose veramente divisive. Ok, anche quando Mogol fu presidente da CIA, diviso un po', mi ricordo. Io non entro. Diviso un po'. Nelle robe serie io ho deciso di non entrare. Il 9 settembre alle 8.30, io continuo a ripetare che sono alle 8.34. Io questi orari li faccio solamente quando vengo qua da te e quando andavo a scuola. Ah, giusto, è vero. Però stavo pensando che 8.34 è un orario presto per te, ma c'è gente che, e ce lo scrive via in Whatsapp, a quest'ora in realtà è già nel traffico, sta già viaggiando da ore, sta già andando, quindi non è che sei tu che hai un fuso orario, sei sull'orario di Greenwich, tu. Sono io che sono sbagliato. Tu sei dietro di un uomo, diciamo che sei su New York, diciamo. Il tuo fuso orario buono per vivere qui è quello di New York. Sì, no, non esageriamo, però sì. Eh, vabbè, questa è un'altra cosa che divide le persone. È divisiva. E chi vive di notte, la gente da notte, la gente da notte, fa lavori strani, certi nascono oggi e finiscono domani, baristi, spacciatori, puttane giornalai, poliziotti, travestiti, gente in cerca di guai. Perfetto. La so tutta se vuoi. E chi vive di giorno? Giusto. Ecco anche chi ci abbiamo. Buongiorno al latte, dal caffè, buongiorno a chi ce n'è, non è così come... No, comunque, questa è un'altra roba che divide le persone. Giusto. Quante cose divide? Poi andiamo avanti. Sì, Berlusconi, divisivo, divisivo anche lui. Oh, alla fine sto malpensa? Eh, si è fatto. Eh, ma no, non c'è scritto da nessuna parte, però. Cioè, non è che quando arrivi c'è scritto l'aeroporto Silvio Berlusconi? Eh, beh, perché da un giorno all'altro, quanti sono passati? Due mesi? Tre mesi? Ho capito, non è che tu... Ho capito, cioè, è come cambiare il nome sul citofono, chiami l'amministratore e lo cambi. Sì, ho capito, sul citofono metti... L'etichetta gialla. ...compri una di quelle tue robe a 10,99. Perché mie. Perché tu etichetti tutto. Ce n'è la roba che etichetta le cose, vero? Posso dare... Ti do un... Ti dico un segreto? Allora, per rifare lo studio, cioè, rifare per settembre lo studio, abbiamo dovuto smontare tutta la regia. Ho etichettato tutti i cavi. Ecco, ma io lo sapevo, perché è una di quelle robe che poi ti dà soddisfazione. Tantissimo, con i lughini anche. È bellissimo. Ma anche... Vabbè, comunque, fatto sta... E che quindi, però, a Malpensa non gli hanno messo l'etichetta sopra. Eh no, l'etichetta, cioè, la scritta Milano-Malpensa sarà... Ho capito, ti colleghi su quei siti che ti stampano... Ma poi, posso dire, meglio. Eh, ma infatti, non vuoi che lì hanno fatto tutto, dai, poi alla fine, zitti zitti, nessuno ha coraggio di andare ad attaccare l'etichetta. Lo stesso per Silvio Berlusconi aveva detto che non gli erano piaciute le modalità con le quali era stata fatta questa cosa, però... Bene, dai. Allora c'è ancora speranza. Peiote, peiote, articolo 31, Rocco Ant e Fabio Fibra. Sei un peiote. Sembra con un insulto. No, perché? Io quando penso al peiote... Sì, pensi solo a un film. È bravissimo. Bravi, comprimati la mano. Questa qui... Perché è proprio una roba d'anostatici degli anni 90. Di chi li ha vissuti e di chi purtroppo non li ha vissuti. Stiamo parlando del Re Leone. No. Di che film stiamo parlando? Di Marrakesh. Di Puerto Escondido. Di Puerto Escondido, scusami. Ah, 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 ah. Di Puerto Escondido con Bentivoglio che... Bentivoglio. Bentivoglio che viene... Che è sull'autobus in cui sta viaggiando Visio. Per Puerto Escondido. Esatto. Sì, no, beh, quella è fantastica. C'è il viaggio alle ricerche del peiote. Sì, sì, fantastica. Vabbè, ma scusami, quando in Marrakesh Express, quando si perdono nel deserto, anche lì immagino qualcosa. Però, vabbè. Sai che mi stai dando... Non so. Vi invito a recuperare tutta la tecnologia della fuga. Perché posso dire la verità? Me li confondo con i due film. Eh beh, sì, ci sta. Nel senso che Mediterraneo non te lo confondi perché Mediterraneo ormai è iconico. Vabbè, anche la location è completamente... Lì ci sono alcune scene che potrebbero un pochino confondi. E' un po' confondo, sì. Effettivamente mi stai facendo venire il dubbio. Vabbè. Dopo lo controlliamo. Lo vediamo. Anzi, 331, 78, 331, 78, 53, 555, la scena del peiote, Puerto Escondido, Marrakesh Express. Allora, la scena del peiote con Bentivoglio sull'autobus è Puerto Escondido sicuramente. Però ricordo che mangiano anche qualcosa di strano che li fa crollare per terra e poi arrivare dove dovranno arrivare in Marrakesh Express. Capiremo. Adesso alle 9.10 quando chiudiamo tutto ci mettiamo qua col proiettore. Tanto abbondiamo di proiettori qua. Sì, sì, ne abbiamo quanti ne vuoi di proiettori ormai. E ci mettiamo in contemporanea a Puerto Escondido. La scena che mi condavo io è quella di Puerto Escondido comunque. Anche c'è la strada lunga, loro che camminano a un certo punto lungo la strada. Lunga e diritta. Correva la strada. Non era la ferrovia, no, la strada. Quella è un'altra. Era la locomotiva, era un'altra. Comunque, allora avete capito che insomma questa puntata non è che proprio abbia un senso in questa seconda ora. Andiamo così, un po' abbraccio, un po' per farvi anche riabituare alla sveglia mattutina. Nessuna rassegna stampa. Nessuna rassegna stampa. In realtà ce l'avevo qua davanti, però... Però è più bello gazzeggiare. Sì, in realtà sono tutte brutte notizie di acqua e pioggia che riempie qualsiasi cosa. Soprattutto, ma ti dico questa uscita di Granelli, l'hai sentita? No. Che ovviamente Radio Carlo Monguzzi ha subito rilanciato. Granelli ha detto che forse il sunto qual era? Beh, belle le vasche, ma non bastano. Bisogna ridurre l'asfalto e il cemento. Però... Eh beh, è giusto. Però ce ne è voluto prima che arrivassero a capire che era questo il problema. E Monguzzi cosa ha scritto? Aspetta, rifacciamo il ginko. Scusa, infatti. Radio Carlo Monguzzi. Hanno detto, ha detto, era ora più o meno. Ah, ok. Tutto questo bordello. Sì, sì, ha detto così. Sai che poi lui è ermetico, certe cose. Non è che proprio va fuori... Se la vuoi capire bene, se no fatti i tuoi. Cioè, il concetto è un po' quello anche del caro Carlo. È un Ungaretti della politica locale milanese. Urca, beh, penso che gli possa piacere come... Guarda, sto andando a ripescarlo per vedere cosa ha messo e non ce l'ho. No, sì, Seveso e Lambro. Non solo vasche anti-esodanzione per contenere i fiumi. L'assessore Granelli dice, serve subito un piano di depavimentazione. Lui dice, oggi la Giunta dice che non basta la vasca del Seveso, ma che serve un piano di depavimentazione. Punti di domanda, una riga di punti di domanda. C'è già da anni, c'è scritto chiaro e dettagliato nel piano di governo del territorio del 2019. Ci sono anche i finanziamenti, ma nessuno fa niente. E quindi questa è stata l'uscita di Carlo Monguzzi che dice, per fortuna ora ci sarà il super esperto che sostituirà la grandi nell'applicazione il piano aria-clima, povera Milano. Così dice. Ah, perché è continuata lo sconto. Continua, continua lo sconto all'interno della maggioranza tra consiglieri di Europa Verde e l'assessore Verde. Ecco, questo era un tema che mi aveva fatto impazzire ai tempi e che prometto qua adesso, 8.44, li tornerò a seguire con particolare attenzione. Così poi ti chiamiamo quando c'è Radio Carlo Monguzzi che fa un comunicato. E allora seguite, seguite la palla rotante, le luci stroboscopiche che avete davanti a voi per iniziare la mattina con un po' di disco music. Questa è la Donna Summer con I Feel Love. Anche tu senti questo amore che arriva? Io immagino il guidatore milanese in famagosta che sente sta roba qua. Va, parte, è un po' come il peyote di Porto Scondido. Eh sì, però non va a finire a lavoro, non va a finire a lavoro. Tira dritto e va sull'autostrada del sole, chissà dove. Con un'immagine molto cinematografica da dietro. La Serravalla, prende la Genova. La Cadillac che è, però non è una Cadillac che è. No, era appunto del 95 verso la Serravalle sulla Milano-Genova così, uscita a Binasco. Con il tono, tutte le industrie. Sì, così, bene, bene, bene. Però insomma, noi vi diamo gli strumenti. Poi voi sta a voi costruirvi il vostro film ogni giorno e ogni mattina. Arrivano i Whatsapp. Questa è la mia ex. Eh no, questa è la volta che vuoi costruirvi il film. Vabbè, sembra una cosa carina, abbiamo uscito male. Non so, sembra quasi una frase da canzone dei pinguini tattici nucleari, potrebbe essere. Cosa c'è, cosa c'è, Lorenzo? Eh, chiudiamo il disco. Ah, no, no, posso dire una cosa. Dai. Devo dire una cosa. Devi dire una cosa, dilla. Per la prima volta, al Gerundium Fest, che è finito ieri, che è il più grande festival della birra, secondo me è in Lombardia, a Casirate Dadda. Stupendo, andateci. L'anno prossimo tornerà. Per la prima volta... In Regia fanno sì con la testa, pensa. Sì? Cioè, Ginevra che dicessi... Ginevra la conosce. Ginevra la conosce, sì. Il Gerundium Fest è tanta roba. Cosa succede? Che tutti gli anni, dura circa un mese, c'è la cover band di Vasco che ci va quattro volte, c'è la cover band di Max Pezzali di 883 che ci va cinque volte, Liga 2. Quest'anno nel programma leggo Tribute Band Pinguini Tattici Nucleari. Ma come i Pia Tribute Band ai Pinguini Tattici Nucleari? No, dai, lo scherzo. Te lo giuro. Erano loro sotto mentite spoglie, dai. E' quello lì che fa le robe su TikTok che assomiglia al cantante. Sai che l'hanno fatto in questa cosa? Sai che c'è uno, allora, Ginevra, tu so che... Aiutami in questa cosa. Sai che c'è il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari che assomiglia a uno che fa delle cose su Instagram. Al concerto di Bergamo ha aperto lui facendo finta di essere il cantante. Vabbè, non sai niente. Non sono informato. Però non so come si chiama, come sempre poche notizie date vale noi, eh, sempre. Devo dire che vi chiediamo scusa, la prima puntata è così, la seconda sarà così uguale. La prima settimana sicuro, poi magari miglioriamo nell'arco del primo mese, poi in realtà dopo siamo stanchi e finiamo male. Comunque, forse per Natale qualcosa di buono è fuori, dai. Comunque questa è una roba sociologica importante. Che le Tribute Band adesso facciano appunto il tributo a Band. Che differenza c'è tra Tribute Band e Cover Band? C'è una differenza? Ma sicuramente un purista ti dirà di sì, io ti dico no. La Tribute si vestono magari anche come loro, la Cover invece... Vabbè, non c'è una Tribute Band di Vasco dove non c'è il... Uno che fa... Esatto, col cappellino, la basetta, è chiaro. Cioè se mi tagli la barba e mi metto un cappellino posso andare anch'io. Sì, la questione è la Tribute Band dei pinguinitati nucleari. Cos'ha, cappellini, ricci... Ricci e dicono poto ogni tanto. E tanti troppi riferimenti agli anni 90. Che poi soprattutto, loro non sono così... Di che anno sono loro? Più o meno di quella roba lì. Ma no, ma sono nati negli anni 90 loro. No, no, secondo me... Non sono nati negli anni 80 secondo me, sono nati negli anni 90. Non lo so, magari non lo trovo. C'è un riferimenti miei, nato negli anni 80, che negli anni 90 giocavo a Subuteo. Eh ma anche io ho giocato a Subuteo, pur essendo nato nel 99. Eh no, anzi, sono nato nel 99. Eh volevi, eh. Volevi giocare a Subuteo negli anni 90, non potevi. Eh sì, mi sarebbe piaciuto perché... Non puoi. Perché poi è arrivato il FIFA. È arrivato il FIFA e basta Subuteo. Troppo nostalgico però è finito il Subuteo. Pensa, non c'è più neanche il FIFA adesso. Come no? Non si chiama più FIFA, ma si chiama FC adesso il gioco... Ma non è la Fiat. No, no, davvero. Non si chiama più FIFA. E-Sports. E-Sports. È bella la casa. Ok, E-Sports, è un game, no? Che poi iniziava con la canzone di Blur, quella del 98. Sì, ti dipende da... Ok. Adesso non c'è più, non si chiama più FIFA. Si chiama FC. No, lo sapevo. Perché non hanno avuto... Siamo sicuri di questa cosa? Quasi sicurissimo. Quasi sicurissimo. Bene, nell'ultimo periodo il FIFA non aveva la Juve perché i diritti andavano tipo a PES e si chiamava Piemonte FC. Quest'anno, da quanto ho capito, non ho andato neanche la licenza per i colori delle maglie su alcune... Non lo so, mi informerò. Informati perché è veramente scandaloso. A settembre esce di solito FIFA. Sì, 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 veramente, secondo me, anche a un certo punto è scandaloso. Cioè, è troppo. Così è veramente troppo. Nel senso che non puoi giocare con un gioco dove non c'è neanche la possibilità... Che poi, vabbè, volendo ti metti lì, ti devi fare tutto e tutto. È sempre peggio, però, nel senso... No, però si punta tanto su alto, si punta sull'online. Eh, sì, sì, adesso ci sono le medaglie, le carte... È tanto, sì, l'ultimate team è tanto che non gioco. L'ultimate team, è bellissimo. Sono rimasto veramente tanto indietro. E allora sblocco un ricordo invece a chi magari negli anni 90 giocava invece a PC Calcio. Tu non sai neanche cos'è questo PC Calcio. C'era anche Football Manager dopo aver arrivato. Ecco, però il primissimo in realtà è stato PC Calcio. Nasceva in Spagna, si chiamava PC Football, si chiamava. Poi è arrivata la versione anche italiana. Tu facevi il manager della squadra di calcio e tutti quelli che hanno giocato in quegli anni giocavano, quasi tutti, con il Baracca Lugo. C'era questa famosa... È una squadra emiliana che esiste ancora. C'è stato lo stadio del Baracca Lugo, solo per farmi la foto davanti. Perché era così, simpatico come nome, ed era particolare vederla tra l'Arsenal, il Manchester, il Milan, l'Inter. C'era anche il Baracca Lugo. E sai adesso invece che cosa parte? E come passa il tempo quando ci si diverte? Mi piacerebbe dire lo stesso. No, ma guarda, sei proprio un ingrato. In grato! In grato! 8 e 56 minuti che vorrete la fine di questa puntata di oggi, lunedì 9 settembre. Sempre qui, anche domani mattina, dalle 7 alle 9. Lorenzo, grazie mille di essere con noi. Grazie a te Fabio, come sempre, per avermi invitato. E vi ricordo che appunto tutti i giorni, dalle 7 alle 9, qui su Cristal Radio, ma ci sono i più disparati, le più disparate maniere per ascoltarci ovunque, tramite app, tramite sito, tramite Spotify, poi con il podcast, Apple Music, ovunque. C'è anche TikTok da quest'anno. Tinder? No, però volendo possiamo farlo. L'abbia trovato invece. Bumble. Questa è una battuta che dalla seconda puntata non si può più fare. Oggi va bene, perché va bene. Oggi ok, domani non si può chiedere tutto. Le voci che avete sentito questa mattina sono quelle di Fabio Ranfi, con il microfono Lorenzo Masiai con me e prima Filippo Poletti. Grazie mille a Beatrice Ginevra in regia. Domani torniamo sempre qui dalle 7 alle 9, come sempre, per raccontarvi tutto quello che succede a Milano. e in città metropolitana. Come abbiamo fatto oggi, no? Più o meno. Più o meno. A domani, ciao! Ciao. Grazie Lorenzo. Grazie Fabio.